Allora, una cosa importante allora, date questo contributo, qui sopra c'è il link, collegatevi con sap-nazionale.org slash cammino, comunque troverete il link sopra, cliccate e avrete la possibilità di seguire questo percorso, di pagare o con Paypal oppure con un conto corrente postale e ci sono i numeri. Aiutateci, perché aiutare noi vuol dire aiutare voi stessi. Un abbracione a tutti.